Amed Benali arrivato negli ultimi giorni di calcio mercato qui a Pescara via Palermo possiamo dire che ti ha mandato Brugman? Non so perché lui ha parlato molto bene di Pescara però non è che mi ha mandato qui ha parlato molto bene ha detto che qui si sta molto bene però mi ha chiamato il presidente hanno spiegato il progetto qui che è un progetto molto importante vogliono fare grandi cose voglio essere una parte di quello. Senti tu arrivi dopo una stagione importante l'anno scorso a Brescia nonostante poi la squadra non sia andata benissimo con che obiettivi arrivi qui a Pescara? Qui ho tanta voglia di giocare tanta voglia di vincere è peccato che l'anno scorso siamo stati retrocessi però ho imparato tanto lì e ringrazio Brescia i tifosi anche che sono stati molto vicini a me ringrazio loro però sono qua a fare grandi cose a fare meglio dell'anno scorso per vincere. Ci racconti un po' quelle che sono le tue caratteristiche in campo? Sono centrocampista che piace giocare la palla poi centrocampista che mi piace attaccare la spazio e inserirmi senza palla poi anche attaccare spazio a fare gol. L'anno scorso qui a Pescara abbiamo avuto Bjarna, sono bravissimo degli inserimenti possiamo dire che tu andrai a fare un po' quello che faceva lui cioè l'inserimento senza palla? Faccio quello che fa Benali e non faccio quello che fa le altri. Per chiudere non è il caso di fare promesse però magari di prendere un impegno cosa ti senti di dire ai tifosi del Pescara? Voglio dire che sono qua, voglio dare il cento per cento alla squadra, vogliamo fare grandi cose quest'anno e speriamo che vi posso dare tante soddisfazioni quest'anno.